No, il fatto è che adesso muovo con sti cinesi che ti vede una roba di solito, no, a mergeria dico vuoi contare su qualche cliente affezionato, un poco di più, meno male che ce l'avremo perché se no, che, no, Rosalia non c'è, è uscita, è andata a fare la spesa, a spesa, dimmi a me, eh? Oddio, ma che è successo qualcosa, anzi? Ma ho fatto via il corpo, ma pensavo che era morto qualcuno. Ma io sei in parte del telefono! Ha chiamato lei e mi ha chiamato! Ma davvero? Si sposa Augustarello? Ecco chi? Una che? Una del do? Sì, della Mordaglia. Sta a Russia, sta, mai che per sbaglio un telegiornale. No, niente, sempre quelle per i miacci, con quello che costa il calcio. A chi lo vaga? No, ma dimmi, ma come l'ha conosciuta? Ma non mi dico, non mi dico. Ma mi dice, vai da qui qualcosa pure a me. È abbadante di zia. Piateve, piateve abbadante. Quelle che se piazzano dentro casa, che se mangiano tutto, non vengono i tanti. Ma, ammazza, sei giovane. Ah, ho 25 anni. Sarà nazzotto. Ma la ragazzina! Non è mezza nazzotto. Ma no, zi, devo dire così. Ma l'importante è che è una brava ragazza. Ah, davete. Non è vero, non fanno tutte le mie sordi. No. Ma magari le va bene davvero. Ma magari ce lo crede. No, dai, zi. Beh, ammazza, bella. Bionda con gli occhi azzuri. Beh, a partà, 1,74. No, dico, vicino a Augustarello. Se è proprio innamorata. Ma come non ci arriva, zi? Ma sì che ci arriva. Ma Augusto è più alto del 1,50. Ma si fa la paura di tuoi fatti. Ma guarda che al 1,55 e al 1,56 ci arriva tutto. Ma tutto. No, zi, non piangie. Ma non fatti così. Ma invece di essere contenta, scusa. Te la mento sempre, c'hai paura che rimedi a scapolo. Scusa, quanti anni c'hai? 52. Ma che sei che scosa adesso?